Una moto con 65 anni di storia è praticamente un mito per diverse generazioni di motociclisti che per oggi si lascia alle spalle del passato e diventa il simbolo di una rivoluzione. Harley Davidson Sport S di noto ha solo il nome e cambia pelle, cuore e anima per dimostrare che con lei l'easy riding è solo un vecchio ricordo e allora scopriamola insieme nel nostro Perché Comprarla. Sembra uscito da una gara di flat track nell'iperspazio lo Sportster S che porta il concetto di hooligan ad una nuova interpretazione nel segmento di appartenenza. Basso, muscolare nelle linee ma comunque filante nel suo sviluppo puramente orizzontale con lo scarico alto e la coppia di terminali a cannone a metterci il punto esclamativo. La mascolinità del nuovo corso Sportster è sottolineata dalla coppia di cerchi, a dir poco imponente l'anteriore da 17 pollici con gomma da 160 montato su forcella Showa da 43 mm e con un disco da 320 morso da pinza monoblocco radiale Brembo a 4 pistoncini. Lasciato a condire l'estetica è il posteriore da 16 pollici con gommone da 180 che esalta la linea del codino minimal e sfrutta un mono piggyback dello stesso marchio con regolazione del precarico. Il nome secondo i puristi non lo meriterebbe visto che la suddivisione arleista dei modelli avveniva per tipologia di telaio fino a poco fa e lo Sportster S ha voltato le spalle al doppia culla del passato per trovare una struttura traliccio in tre elementi che usa il motore come elemento stressato e abbassa il peso di ben 27 kg rispetto all'Iron 1200 fermando la bilancia a 221. A sottolineare ancora di più il taglionetto col passato poi c'è un dettaglio che a molti potrà sembrare insignificante ma che è simbolico è lui il primo Sporty a usare Viteria Torx. L'unico elemento che può far pensare agli antenati è il serbatoio da 11,6 litri una sorta di pinat ridisegnato in chiave moderna mentre il faro full led a pillola sottolinea il family feeling con un altro modello mucho macho di Milwaukee la Fat Bob da cui ricalca anche l'ergonomia. Pedane avanzatissime manubrio largo e basso e una sella minimal anche nel rivestimento alta 765 mm da terra ma inaspettatamente comoda restituiscono una triangolazione abbastanza particolare. Si sta infatti col busto proiettati in avanti pronti ad attaccare l'imponente avantreno ma con le gambe abbastanza rilassate anche per i più alti come me che sono 1,87 m. Naturalmente la protezione aerodinamica non è pervenuta ma un po' di vento in faccia è il dolce pegno per chi decide di cavalcare uno sportster. Com'è la strumentazione? In mezzo a così tante forme inedite potrebbe essere interpretato come uno dei pochi richiami al passato ma in realtà il display circolare da 4 pollici sul ponte di comando dello Sportster S fa capire quanto l'attenzione di Harley Davidson anche ai dettagli sia proiettata verso una nuova era. Piena connettività con il telefono e l'interfono e addirittura la navigazione a mappe con app Harley Davidson sono gli highlights tecnologici dello Sportster che concentra tutto in un TFT chiaro e di semplice lettura. Dai blocchetti al manubrio si arriva facilmente ad impostare il cruise control, a cambiare le mappe motore o ad attivare i controlli vocali. E il motore? Una roba del genere a Milwaukee non si era mai vista e non parlo delle linee futuristiche ma piuttosto dei numeri del nuovo Sportster S. Il merito è tutto di questo gioiellino qui. Il Revolution Max V-Twin della svolta che ha debuttato sulla Maxi Enduro Panamerica si è cucito addosso le esigenze del nuovo Sportster aggiungendo una T alla sua nomenclatura. Il bicilindrico inclinato di 60 gradi, raffreddato a liquido e con valvole a fasatura variabile, distribuzione bialbero a 4 valvole per cilindro non rinuncia alla cura maniacale per i dettagli e infatti vanta due contralberi per annullare le vibrazioni, uno nel basamento e uno nella testa anteriore. Coperchi delle teste e carter in magnesio ma applica anche soluzioni ad hoc. I profili dell'albero a camme e la fasatura delle valvole sono pensati specificatamente per il modello. I pistoni hanno sagumatura diversa, le testate hanno valvole più piccole, una ricerca che permette di modificare l'erogazione rispetto alla Panamerica e avere la giusta castagna in basso. Così il Revolution Max 1250T può contare su 121 cavalli a 7500 giri e un picco di coppia di 125 newton per metro a quota 6000, numeri impressionanti per uno Sportster che vengono gestiti da un pacchetto elettronico che vanta, tra le altre cose, quattro mappe di cui una personalizzabile. E se la presenza della trasmissione a cinghia è uno dei pochi elementi di continuità meccanica, il rinnovamento dell'icona Sportster coinvolge anche l'udito. Rispetto alle antenate ha sicuramente perso mascolinità in basso e anche il tratto classico del potato sound, ma questa è anche colpa delle omologazioni antinquinamento. Ci ha guadagnato però tante note alte grazie al nuovo motore e allo scarico a dir poco caratteristico che con i suoi scoppiettini in rilascio fa venire voglia di tenere aperta la manetta. E' bella da guidare? Se mi avessero bendato prima di salire per la prima volta sul nuovo Sportster, beh non avrei mai detto di essere su una Harley perché rispetto al passato cambia tantissimo, se non tutto, e si capisce sin dai primi chilometri che una moto del genere a Milwaukee non c'era mai stata. La reattività dello Sportster S è il vero X-Factor di questa moto. Nonostante l'ergonomia insieme all'inclinazione del canotto di sterzo di 30 gradi e l'interasse da oltre un metro e mezzo non ne facciano l'arma definitiva per far segnare il tempo record nel tragitto casalavoro, si può fare affidamento su un motore che sin dai bassissimi giri si dimostra elastico e con il giusto respiro per riprendere quota anche dal tutto chiuso. E poi c'è una frizione intuitiva e morbida che aiuta non poco in città. Nota di merito va alla copertura dello scarico che funziona alla grande e riesce a contenere i bollenti spiriti prima che arrivino sulle gambe del pilota anche nel traffico. Sulle buche e i santietrini romani la forcella Showa fa un ottimo lavoro considerando di che moto stiamo parlando, ma per stare il fianco c'è il mono ammortizzatore che restituisce i colpi più duri senza troppi complimenti. La guida al piccolo trotto però rimane il suo habitat naturale. Lo Sportster S accetta di buon grado la marcia alta e impreziosisce le sensazioni positive con un'erogazione che si dimostra sempre pronta al cambio di passo, ma soprattutto senza vibrazioni. Le good vibrations, quelle che addormentavano letteralmente le mani ai polsi di chi viaggiava su uno Sportster fino a qualche anno fa, sono sparite, così come anche il clank che segnalava il cambio marcia sulle Harley Davidson. Insomma, ogni dettaglio fa capire che con le sue progenitrici questa moto ha veramente poco a che fare. E per averne la conferma basta selezionare la mappa Sport e scegliere un bel percorso di guidato veloce. Il Revolution Max diventa cattivo come neanche il fan più spiegatato del nuovo corso Harley Davidson avrebbe potuto immaginare. Schiena corposissima ai medi e una spinta vigorosa che porta il contagiri, una volta raggiunti i 6.000, dritto verso il limitatore, posto poco sotto la doppia cifra. Un carattere da maxi naked che viene limitato solo dalla scelta di un avantreno così imponente. La ruota anteriore da 160 oppone una naturale resistenza alle discese in piega più rapide e si fa sentire nei cambi di direzione. Per questo il guidato più lento e tortuoso può metterla in difficoltà, ma quando la strada si apre ripaga con tanta stabilità e un comportamento e incomiabile in percorrenza. In un contesto simile se si cerca la staccata si nota come la calzata d'allop abbia la giusta tenuta, ma forse un filo di comunicatività in più non guasterebbe. La frenata anche è giusta, col posteriore modulabile e l'anteriore potente il giusto nelle prime fasi di chiamata, ma un secondo disco non avrebbe certo guastato. Se siete dei lupi solitari che quando indossano il casco vogliono staccare la spina da tutto e da tutti senza la paura di dover condividere il viaggio, allora lo Sportster S potrebbe essere la moto che fa per voi e il motivo è semplice, basta guardare lo spazio riservato al passeggero. L'estetica dello Sportster S infatti non prevede grande comfort per chi vuole godersi il viaggio da spettatore. La dotazione standard è monoposto, ma anche acquistando sellino e pedane la dolce metà difficilmente ringrazierà, anche per colpa di un codino che lascia libertà alla ruota posteriore di alzare acqua e detriti dal terreno. E se il comportamento del motore è da Maxi Naked i consumi non tradiscono il paragone, visto che durante la nostra prova non siamo riusciti ad andare sopra i 15 km litro. Futuristica nelle linee e anche nella dotazione, lo Sportster S può contare su piattaforma inerziale a 6 assi con ABS e traction control, entrambi i cornering, oltre alla possibilità di regolare la potenza del freno motore, l'erogazione della coppia e la potenza di accelerazione tramite la mappa personalizzabile. Quanto costa? Servono 17.500 euro per portarsi a casa la nuova Sportster S nella colorazione Vivid Black della nostra prova. 300 euro in più per le colorazioni Green Metallic e White Sand. Tra gli accessori più utili con cui impreziosire lo Sportster ci sono oltre al kit passeggero, che a seconda della scelta va dai 500 ai 530 euro. Anche il plexi a sgancio rapido, che costa 510 euro le manopole riscaldate a 300 euro le pedane centrali, al prezzo di 800 euro. Difetti? Non presta il fianco a critiche lo Sportster S, ma volendo trovare il pelo nell'uovo potremmo dire che un secondo disco all'anteriore avrebbe reso maggiore giustizia alle sue prestazioni. Dagli States all'Italia poi il nuovo Sporty si porta dietro una piccola svista linguistica. L'autonomia residua viene indicata come intervallo, generando un po' di confusione sulle prime. La consiglieresti? Chi in una moto cerca il compromesso, di qualsiasi natura esso sia, probabilmente non avrà mai in garage uno Sportster S, perché qui ci troviamo di fronte ad un'interpretazione radicale di un cruiser fatta da chi questo segmento lo ha praticamente inventato e plasmato negli anni. Questo modello lancia la sfida più che alla Indian, rivale storica con la sua scout, agli europei che hanno creato la nicchia delle power cruiser, Ducati, Diavel e Triumph Rocket 3 su tutti. Certo, avranno più cavalli e magari una componentistica più sopraffina, ma costano molto di più. Insomma, se queste sono le premesse per il futuro di Harley Davidson, beh, ne vedremo delle belle. Grazie a tutti.